Musica Nuova truffa in città e danni di un'anziana. Una donna si è finta la figlia del tabaccaio vicino casa per svaliggiarle l'abitazione. La signora ha denunciato alla polizia e fornito un identikit. Solito degrado alla frasca nel post Pasquetta, l'area ridosso del mare è completamente invasa dai rifiuti abbandonati. Accesi anche diversi fuochi all'interno della pineta. Sembrava risolta la questione sugli spazi acqua al Palagalli tra NC e Centuncelle dopo l'incontro con il delegato allo sport Iacomelli. La tregua pasquale Scricchio l'ha fissato un nuovo appuntamento il 20 aprile. Presentazione questa mattina per il nuovo Palio Marinaro in programma il 22 e il 23 aprile. Oltre alle classiche gare di canottaggio, previsti tanti eventi collaterali tra i quali il torneo di calcio Balilla. Vittoria in pieno recupero per il Civitavecchio. I nerazzurri espugnano il campo del Falas Chelavinio per 1-0. Vittorini tiene in corsa l'undici di Caputo nella lotta a promozione. Buonasera e bentrovati dal TRC Giornale. Cambia il copione ma rimane il tentativo di truffa ai danni soprattutto degli anziani. Anche a Civitavecchia si conferma il boom dei raggiri ad ignari cittadini. L'ultimo caso è però diverso dai precedenti, segno che i malintenzionati cercano sempre nuovi modi per derubare le proprie vittime. Stavolta una donna si è finta, la figlia del tabaccaio, per entrare a casa di una signora che si è accorta tardi del raggiro. Per i dettagli sentiamo il servizio. Si finge la figlia del tabaccaio per rubare nell'abitazione di una signora che abita nelle vicinanze dell'attività commerciale. È in estrema sintesi quanto avvenuto qualche giorno fa nella zona del mercatino del mercoledì di via Pietronenni. Torna dunque, questa volta con modalità diverse, l'incubo delle truffe ad anziani che si registrano a Civitavecchia e non solo. Stavolta, come detto, non è stato seguito quello che da qualche mese a questa parte è ormai il solito copione, ovvero il finto incidente, con i malviventi che telefonano a casa della vittima di turno per chiedere di racimolare e consegnare una grossa cifra per tirare fuori dai guai un parente stretto. L'episodio avvenuto nei giorni scorsi ha visto modalità che potremmo definire più dirette, ovvero con il truffatore, o meglio una truffatrice, che con uno stradagemma è riuscita ad entrare dentro casa ultimando poi il furto. La signora che ha telefonato alla nostra redazione per evidenziare la truffa subita ha segnalato di aver parlato dal balcone di casa sua con una donna che le diceva di essere la figlia del vicino tabaccaio, conosciuto dall'anziana, prima che la giovane entrasse in casa sfruttando il fatto che la porta era aperta. Una volta in casa, la ladra, nel giro di pochi secondi, ha preso tutto il possibile per poi scappare. La vittima del furto, che nel frattempo si avvicinava alla porta d'ingresso per ricevere la presunta figlia del tabaccaio, ha visto la donna allontanarsi con la refurtiva che la ladra era riuscita in poco tempo a racimolare. Una volta accorta si del giro, la signora ha immediatamente effettuato la denuncia alla polizia, alla quale ha fornito una descrizione precisa, un vero identikit della malvivente. Si tratta di una signora alta 1,60 m, dai capelli lunghi e biondi, con un cappello in testa, pantaloni neri e scarponcini di camoscio di colore avana. Triplo intervento in mattinata per i Vigili del Fuoco di Civitavecchia alle 8.30. La giornata movimentata degli uomini della caserma Bonifazi è cominciata con una richiesta di soccorso a Viale Lazio per un principio di incendio di un'automobile. Arrivati repentinamente sul posto, i pompieri hanno domato le fiamme prima che coinvolgessero l'intero veicolo. Poi si sono regati in via Libeccio, nel quartiere Boccelle, per una fuga di gas. Tramite gli strumenti in dotazione i Vigili del Fuoco hanno intercettato la fuga su strada, mettendo in sicurezza la zona. La mattinata si è conclusa con un ascensore bloccato in via Padri Domenicani con due persone all'interno che sono state poi liberate dai pompieri. Tutti e tre gli interventi sono state risolte senza feriti. Solito triste risveglio per la frasca, a due giorni dalla Pasquetta l'area ridosso del mare frequentata dai civi tavecchiesi resta invasa dai rifiuti di ogni genere abbandonati dai soliti incivili che hanno scelto di effettuare lì la scampagnata. Qualcuno li ha raccolti in sacchi di indifferenziata che però non ha conferito all'interno dei pochi cassonetti lasciati nella zona dalla Seport ma ha lasciato incustoditi nella Pineta alla merced di animali che li hanno nuovamente svuotati. Non solo qualcuno, nonostante il divieto e il fatto che siano state rimosse da mesi le aree barbecue ha pensato bene di accendere fuochi a terra all'interno della Pineta con tutti i rischi del caso considerato anche il forte vento di lunedì e dei giorni successivi. I particolari nel servizio. Il solito risveglio della Frasca a pochi giorni dalla Pasquetta con tanti cittadini soprattutto ragazzi che hanno deciso di scegliere uno dei posti più belli per trascorrere il lunedì di festa che segue appunto la Pasqua una distesa di rifiuti alle nostre spalle all'interno della Pineta con tantissima immondizia sparsa sul terreno della Pineta in particolare sono rifiuti legati ai cibi che sono stati consumati nel giorno di Pasquetta abbiamo i bicchieri, i piatti di plastica, abbiamo le confezioni che contenevano la carne abbiamo bottiglie di plastica, bottiglie in vetro sia del vino che della birra insomma un'infinità di rifiuti che sono stati abbandonati alla Frasca e che il vento sta continuando a spingere, a sparpagliare per tutta l'area in alcuni casi i rifiuti sono stati anche raccolti, messi in alcuni sacchi come quello che vedete alle mie spalle attaccato a quell'albero in fondo altri sono stati lasciati sotto le piante ma non sono stati portati via quindi non è stato compiuto l'ultimo atto utile al non essere incivili ovvero a portare via i rifiuti e portarli a casa o meglio c'è anche un secchione a 20 metri da noi che poteva essere tranquillamente utilizzato per accettare l'immondizia indifferenziata che era stata raccolta a un passo però ci siamo fermati con gli animali che poi hanno nuovamente rotto le buste e sparpagliato nuovamente l'immondizia in giro ed il vento che ha fatto il resto abbiamo visto anche dei fuochi che sono stati accesi sul terreno della pineta con il rischio di far partire qualche incendio anche perché la giornata di Pasquetta è stata particolarmente ventosa e quindi diciamo il vento alimentava anche le fiamme proprio sul terreno della pineta e insomma siamo nuovamente qui dopo anni che segnaliamo questa problematica eccoci qua con la solita distesa di rifiuti lasciata purtroppo dagli incivili in uno dei posti più belli di Civitavecchia ovvero la frasca congelato lo sciopero previsto in origine per domani e venerdì lo annunciano le sigle sindacali Filt CGL, Filt CISL, Will Trasporti e UGL Mare e Porti che spiegano di aver avuto un incontro con il presidente dell'autorità portuale Pino Mussolino da cui è scaturito il verbale condiviso tra le due parti per effetto di questa decisione lo sciopero previsto per le ultime tre ore del turno lavorativo dei prossimi due giorni è congelato ma rimane quello programmato per tutti i dipendenti della DSP per l'intera giornata del 21 aprile in attesa di ulteriori comunicazioni la vicenda della Port Authority, società che si occupa della sicurezza portuale va presa in esame rapidamente siamo al contempo vicini ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali di CGL e Will che hanno indetto uno stato di agitazione quest'oggi ad affermarlo è il forum PD Porto che chiede chiarezza sulla vicenda riteniamo importante che un settore così strategico sia valorizzato da parte dell'autorità portuale si legge nella nota anche attraverso una vera e propria pianificazione del personale vista l'imminente stagione ormai alle porte chiediamo che le continue dilazioni nell'affrontare tale tema arrivati a questo punto non siano più sostenibili e più che una fumata bianca è stata una fumata grigia non sia ancora risolta la situazione relativa agli spazi acqua al Palagalli che nelle scorse settimane hanno visto la forte polemica tra NC e Centuncelle sarà necessaria una nuova riunione al Comune per poter fare in modo che la tregua pasquale che ha congelato la situazione possa terminare da un momento all'altro ascoltiamo il servizio la fumata bianca evidentemente bianca non era era quantomeno grigia dopo le rassicurazioni arrivate al termine della riunione di venerdì scorso al Palazzo del Pincio sulla situazione degli spazi acqua al Palagalli le acque dell'impianto di Viale Lazio tornano a farsi agitate il delegato allo sport Matteo Iacomelli aveva dichiarato che era stato trovato un punto d'accordo tra NC Civitavecchia e Centuncelle dopo le forti polemiche dei giorni precedenti scatenate dalla decisione del club Rosso Celeste che gestisce l'impianto di non permettere ai biancorossi di allenarsi allo stadio del nuoto per via di due fatture non saldate ma stando a diverse indiscrezioni giunte da chi ha preso parte all'incontro la questione sarebbe tutt'altro che risolta quella in corso è soltanto una tregua in attesa del nuovo incontro ci si augura risolutore fissato per il prossimo 20 aprile da quanto emerso in modo informale sul contenuto della riunione di venerdì scorso sembrerebbe che la Centuncelle sia stata invitata a saldare una delle due fatture rimaste in sospeso l'altra è congelata fino al prossimo incontro per vedersi riaprire le porte del Palagalli al fine di tornare ad effettuare gli allenamenti in vista dello scontro diretto per il primo posto del campionato di Serie C contro la SIS Roma in programma sabato prossimo restano però da chiarire tutte le questioni che avevano portato la società del presidente Jonathan Civero a sospendere alcuni pagamenti e a richiedere un accesso agli atti per verificare le tariffe degli spazi acqua per allenamenti e partite previste nella convenzione tra N.C. Civitavecchia e Palazzo del Pincio in un documento reperito sul siro del comune di Civitavecchia il club biancorosso ha letto che gli spazi acqua per disputare le gare giocate in campionati nazionali proprio come la C e l'Under 20 maschili a cui partecipano i ragazzi della Centuncelle dovrebbero essere concesse gratuitamente quando invece vengono fatti pagare la tregua pasquale insomma scricchiola in vista dell'appuntamento del 20 aprile nel colso del quale si trova a fare chiarezza su questi aspetti legati ai costi degli spazi che la N.C. Civitavecchia in qualità di gestore dell'impianto concede alle altre società non solo alla Centuncelle ma anche alla Nautilus e a chiunque ne faccia richiesta La conferma del successo per i ristoranti cittadini per le giornate di Pasqua e Pasquetta arriva dal presidente locale di Confcommercio Graziano Luciani L'itolare è a pieno, spiega Luciani e sono state superate tutte le previsioni specialmente i ristoranti hanno fatto registrare un più 15% rispetto al 2022 ed un più 9% rispetto al 2019 pre-Covid l'unico neo è che la città era piena di turisti e quasi la totalità degli esercizi erano chiusi invito quindi i commercianti in modo speciale quelli del centro a stare aperti per non perdere queste grandi opportunità di incasso e l'assessore ai servizi sociali Cinzia Napoli comunica che è online l'avviso pubblico per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione il sostegno alle famiglie in difficoltà è un aspetto del nostro impegno che ci guida alla bella politica dichiara l'assessore Napoli nello spirito di servizio che fa di un'amministrazione pubblica il cuore della coesione sociale per la presentazione della domanda è necessario essere in possesso dello SPID OCE può essere inoltrata da parte di un solo componente dello stesso nucleo familiare può essere compilata esclusivamente online fino alle ore 12 dell'11 maggio tutte le informazioni nell'articolo su www.trcgiornale.it e si è svolta questa mattina la fondazione Cariciv la conferenza stampa di presentazione del palio marinaro tradizionale evento organizzato dall'associazione Mare Nosto un 2000 che si terrà il 22 e il 23 aprile all'interno dei festeggiamenti di Santa Fermina come sempre oltre alle classiche gare di canottaggio con la sfida tra i rioni storici e il pario marinario dei tre porti saranno tantissimi gli eventi collaterali come la pagaiata dimostrativa con le donne del Dragon Boat la gara per gli equipaggi integrativi e il torneo di Calcio Balilla Sando Calderai appuntamento insomma speciale quello del palio mariano come tutti gli anni l'unità di quest'anno Malta o c'è anche altro? Ah c'è anche altro abbiamo invitato e accettato un equipaggio della Repubblica di Malta della città di Sigequi che diciamo ci ha dato anche modo di organizzare un'accoglienza che va oltre il gesto sportivo in acqua perché tu sai che sono molto importanti le testimonianze passate le lordie cavalieri di Malta a Civile Vecchia noi abbiamo collaborato con la prologo alla presentazione del libro di Giovanni Insolera sulla vita di Terenzio con le modi e il 21 faremo proprio una conferenza alla presenza dell'equipaggio maltese presso il forte Michelangelo alle 17.30 proprio sulle testimonianze dell'ordie cavalieri di Malta a Civile Vecchia ma non è solo questo perché l'attenzione del palio è arrivata anche alla regione Lazio perché proprio in questi giorni prima di Pasqua c'è arrivata la conferma che il nostro progetto del palio marinaro di Santa Fermina e in particolare il progetto che noi indirizziamo ai geometri che ha un taggio contro la bandiera sportiva di Tricoce è stato scelto e quindi avviato a finanziamento anche da parte della comunità europea quindi questo ci riempie veramente di orgoglio Gabriella Sarracco torna a tradizionale appuntamento nel palio marinaro appuntamento tradizionale come hai detto ma anche sociale è un appuntamento che quest'anno ci riserverà ulteriori novità molto importanti a dimostrazione che la nostra cultura è una bella cultura attraverso il palio attraverso Santa Fermina abbiamo raggiunto regioni molto lontane dalla nostra che intendono partecipare e mettersi in gioco in questa nostra manifestazione Sindaco torna a un appuntamento tradizionale come quello con il palio marinaro nell'arco di festeggiamenti di Santa Fermina meno male meno male perché conserviamo questa tradizione grazie al presidente Calderai e lo ringrazio pubblicamente a tutti coloro che collaborano in questo meccanismo che sicuramente non è facile che riprende a pieno titolo con maggior vigore anche da un punto di vista qualitativo ci sarà un fattore internazionale che non guasta sicuramente per rendere questa tradizione che è peculiare della nostra città sempre più viva sempre più visibile sempre più importante da parte nostra stiamo lavorando per istituzionalizzare il palio e quindi per dare un'impronta che rimanga nel tempo nel futuro perché proprio si tratta di un evento o di una manifestazione che merita la massima importanza la massima considerazione il rispetto e l'attenzione da parte di tutta la cittadinanza seconda edizione per Civitavecchia Spring Music Festival tre appuntamenti tra aprile e maggio alla cittadella della musica che trovano una naturale collocazione nella sala Ennio Morricone a cura del comune ATCL in collaborazione con Promu ad aprire la rassegna venerdì prossimo ore 21 uno dei più famosi pianisti jazz italiani Danilo Rea reduce dell'esibizione al festival di Sanremo con Gino Paoli Danilo Rea si esibirà in piano solo accompagnando il pubblico in un viaggio nella musica jazz alla musica pop ripercorrendo i grandi successi italiani ed internazionali degli anni 70 ad oggi inesauribile fonte di ispirazione interpretativa e compositiva per l'intramontabile pianista e domani alle 17.30 nei locali della fondazione Carici Carlo Alberto Falsetti e Giuseppe Nuccitelli presenteranno il libro La maledizione di Rasputin di Sergio Kreisky sarà presente l'autore l'evento organizzato da Spazio Libero Blog e termina qui la prima parte del nostro telegiornale ma restate con noi perché a breve dopo un piccolo break pubblicitario torneremo con le notizie sportive a tra poco Buonasera e ben trovati apriamo con il calcio Vittorini regala una speranza al Civitavecchia nel turno infrasettimanale valido per la qual'ultima giornata di eccellenza i nero-azzurri hanno vinto per 1-0 sul campo del Falas che lavigno al termine di una partita molto sofferta a sbloccare il match proprio all'ultimo secondo utile è stato Bomber Vittorini con la sua rete numero 29 il servizio soffertissima ma fondamentale vittoria per il Civitavecchia i nero-azzurri nel turno infrasettimanale del campionato di eccellenza hanno superato per 1-0 il Falas che lavigno alimentando la speranza di poter arrivare al primo o secondo posto della classifica decisivo ancora una volta Manuel Vittorini che proprio all'ultimo secondo utile del match ha segnato la rete che ha regalato i tre punti all'undici guidato da Caputo partita viva nei primi minuti con le due squadre che sono obbligate a vincere per i rispettivi obiettivi al quarto Ferrari ben imbeccato da Vittorini sbaglia e non riesce a calciare in modo pulito e sul ribaltamento di fronte il portiere Sarracino effettua una bella parata al minuto 10 entra in azione Vittorini che con una bella finta se la porta dal destro al sinistro e calcia da fuori aria ma il portiere del Falaschelavigno blocca tre minuti dopo l'occasione più clamorosa capita ai padroni di casa con Fusco che però dall'altezza del dischetto del rigore calcia malissimo e spedisce fuori a Sarracino battuto la partita prosegue senza grandi emozioni fino al termine del primo tempo nella ripresa poche le emozioni con le due squadre molto imprecise che piano piano si sono fatte anche prendere dal nervosismo vista l'alta posta in palio a spuntarla proprio in pieno recupero sono gli ospiti con Vittorini che trova spazio e appena dentro l'aria lascia partire un destro imparabile per il portiere di casa esplode di gioia la panchina nerazzurra che dimostra di credere ancora nella possibilità di risalire la classifica il Civitavecchia vince e porta a casa tre punti importanti ma anche la Boreale fa lo stesso battendo per 1-0 il fiano romano i punti di distacco tra i nerazzurri e i romani rimangono cinque mentre Lanzio al momento ha più tre sui Civitavecchiesi ma dovrà giocare domani sul campo della Foul Cimini Ricomincia con un match di recupero il campionato di C-Gold per la Stemar 90 cestistica domani alle 20.45 palla a due al pallaricucci per l'incontro con la Carver le residue speranze dei play-off per la squadra di Gabriella Rosa distante 10 punti dall'ultimo posto utile a sei partite dal termine potrebbero spegnersi definitivamente in caso di sconfitta per la situazione scontri diretti peggiori con Frassati alla quale basta un successo nelle prossime cinque gare per far fuori campogiani e compagni quindi un'occasione per rilanciare quantomeno il finale di campionato nel quale i rosso-neri vogliono togliersi delle soddisfazioni e si è conclusa con un quinto posto la bellissima esperienza con la rappresentativa Lazio al trofeo delle regioni con tre giovanissimi talenti della Nautilus Lucrezia Puppi Alessia Comodi Ballanti e Alessandra Pirone il Lazio ha ottenuto la quinta piazza battendo la Lombardia una posizione notevolissima su 11 squadre partecipanti divise in tre gironi posizione che le atlete verde e azzurri hanno contribuito a raggiungere lavorando bene con la squadra andando a segno senza paure attraverso il loro apporto tecnico e tattico il record sui centometri stile libero di Lorenzo Ballarati ha trovato grande cassa di risonanza anche al di fuori di Civitavecchia nei giorni scorsi anche la Gazzetta dello Sport ha dato molto al tritone della Cosa Raniene e al suo allenatore Fabio De Santis in un articolo nel noto giornalista Stefano Arcobelli si è parlato molto del successo di Ballarati che ha infranto il record precedente appartenuto a Thomas Ceccon e di coach De Santis nominato anche come scopritore di Damiano Lestingi un nome che non ha bisogno di presentazioni e che ha fatto la storia del nuoto italiano e tanta Civitavecchia la Sparta Cup di Igualada vicino a Barcellona diversi infatti sono stati i giocatori della CV Skating che hanno partecipato a quello che è il torneo giovanile più grande d'Europa c'è stata presenza di giocatori nostrani praticamente in ogni categoria e tutti si sono estremamente ben distinti guadagnando i complimenti degli allenatori giocatori e addetti ai lavori presenti e si sono conclusi con molti sorrisi per la Lega Navali i giochi internazionali giovanili fu a campione sul lago di Garda è stato il primo evento internazionale dove la formazione Civitavecchiese è quasi al completo che si è confrontata con gli altri giovani avversari internazionali i ragazzi sono stati seguiti dal coach Daniele Guzzone ed Emanuele Arciprete è stata una settimana intensa che ben quattro velisti locali che si sono qualificati per la finale Davide Terzaroli Elisa Del Duca Alice Evangelisti e Vittoria Marconi a mettere in tasca il risultato più importante è stato Del Luca che si è classificato che si è classificata quarta ma gli appuntamenti non sono certo finiti infatti la Lega Navale è impegnata anche nell'Europa Tecno 293 al circolo Surf Torbole dove parteciperanno i piccoli atleti targati LNI e con questo è tutto termina qui questa edizione del nostro telegiornale ma prima di salutarvi vi ricordiamo di seguirci anche sui nostri canali social Facebook, Youtube ed Instagram oltre che sul nostro sito www.trcgiornale.it grazie dell'ascolto auguro a tutti un buon proseguimento di serata www.trcgiornale.it 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 www.trcgiornale.it